ciao a tutti amici benvenuti su rom 2 total world siamo qui oggi dopo tanto tempo perché vorrei portare il divizio price of the republic però non so con plonefazione le possibilità sono gli stati greci siracusa e taranto monica colonia spartana le tv gamiche i senoni i ginsubri nei civiltà italiche come roma e talcuna cioè gli etruschi e le tv italiche come i sanniti i veneti oppure le tv della sardegna personalmente come fare questa campagna con questa fazione però ditemi cosa ne pensate voi quindi aspetterò molti commenti sotto questo video niente ditemi quale fazione volete e io ve la poterò ciao ragazzi